Musica 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 Vai Franci, va bene, va bene, spazzo libero, spazzo libero, Franci, vai, vai, spazzo libero, mamma mia Franci che controlla lì, quello è mezzo, segniamoci, questa è la parte, Daniel, Daniel, aveva fatto una cosa, calma, a chi la dà, a chi la dà? In due, in due Franci ragiona, tocca fac Parkinsoni Fermalo tu, fermalo Franci Vai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.